Giare al centro di una inquietante sequela di episodi criminali, alcuni anche indecifrabili come il sabotaggio avvenuto lo scorso giovedì, ai danni di una storica società di autolinea, la Buda Sag, nell'autoparco di via Luigi Orlando nottetempo ignoti autori, si sono introdotti manomettendo in qualche modo una ventina di bus dell'azienda di trasporto collettivo pubblico, un episodio anomale al tempo stesso inedito, ma non è il solo di questi ultimi giorni poco prima ignoti malviventi hanno anche assaltato nel cuore della notte una rivendita di tabacchi nel centralissimo Corso Europa nella zona residenziale della città, tagliate le maglie di una seranda esterna con delle cesoie, così da realizzare un piccolo varco per poi svuotare il negozio dei prodotti di vendita, poi l'incredibile escalation di incendi d'auto, un fenomeno tutto giarrese che aveva registrato nell'ultimo periodo un sensibile calo ma che ha ripreso vigore in questo primo bimestre del 2017, risultato tangibile, rappresaglie, intimidazioni e vandalismo sfrenato e qualche autocombustione sospetta. L'ultimo episodio incendiario dichiaratamente doloso è avvenuto nella centralissima via Carolina alle spalle di via Callipoli, a fuoco una Ford Cuga in sosta sul ciglio della strada, un'azione criminale che ha provocato anche la plateale reazione del proprietario che sui social postando la foto dell'auto distrutta dal rogo ha apertamente sfidato gli autori di l'intimidazione accusandoli di essere dei vigliacchi e ancora all'inizio del mese scorso tre incendi d'auto verificatesi quasi in simultanea nel corso della notte in contrada Rovettazzo, poco dopo in via San Matteo a Macchia e ancora in via Liguria nel quartiere popolare Iungo. Le fiamme in quest'ultimo caso hanno anche incenerito una vecchia Fiat 1 di proprietà di un pensionato che ha raccontato storie di presunti soprusi e richieste esplicite di denaro. A Guzzini insomma pronti a tutto, sullo sfondo anche un clima di omertà diffuso in un quartiere città dove l'illegalità sembra trionfare su tutto.